Scusi eh, non ho mai messo. Scusi eh, non ho mai messo. Nonché come dire, sento anche Spiderman. Sento anche Spiderman. No, commenta la stagione. Non so, io sparare le mie coccere. No, no, no. Spargo, spargo. Prima di partire a Usala che mangia a cingare. Scusi, è un po' più presente di quest'anno. Cosa prometti più di futuro? Prometto tutto quello che volete. Chiedeci un po' di progetti. Ma è sempre vago, ma sai, è talebile che è questi campioni. Ma io ci sono, come mi chiamateci. Ma questa è l'esperienza all'etra, è l'impresso. Chi si sa, con questa complotità per l'Armarch. Che è l'esercito.